Più di 4 volte su 10 i cibi che cuciniamo e portiamo a tavola contengono residui di prodotti fitosanitari, un dato in peggioramento rispetto all'anno scorso, il 44,1% contro il 37%. I pesticidi nel cibo non superano quasi mai le soglie consentite, ma il 14,3% a traccia di un prodotto, mentre quasi il 30% è contaminato da almeno due tipi diversi di pesticidi. Anche l'edizione 2022 del dossier Stop Pesticidi nel piatto di Lega Ambiente conferma che la frutta è la categoria più colpita, più del 70% dei campioni contiene uno o più residui. Va appena meglio con la verdura, dove il 65,5% dei campioni analizzati risulta senza residui. I peggiori pesticidi nel cibo? L'uva da tavola, 88,3%, le pere, 91,6% e i peperoni, 60,6%. Tra gli alimenti trasformati, invece, il vino e i cereali integrali sono quelli contaminati più spesso, rispettivamente circa il 61,8% e il 77,7%.